Buongiorno, ciao a tutti, il mio nome è Lorenzo, Lorenzo Paragon, sono di Milano, sono un attore Stasera no limits Facciamo così, dimmi subito Ho avuto la possibilità di collaborare con le reti Rai e Medeset per brevi spot pubblicitari e telepromozioni principalmente Con i digitali terrestri, Medeset ti offre tanti canali in più Buongiorno Marco, non serve la magia, passa a Meta Energia, chi porta un amico trova un tesoro Accademia qua a Milano Civica Paolo Grassi, dopodiché mi sono specializzato con diversi maestri Tra cui Mario Mattia Giorgetti, Claudio Lorenz, per quanto riguarda teatro danza, tanta gavetta e... Ed è tutto Beh, come ti dicevo Mauro, io senza la mia macchina fotografica sono... mi sento perso Lei lo sa, cioè gliene hai parlato Ma va, guarda che anche lei senza di me non va da nessuna parte Vado su segugio.it Risposta esatta Tu lo sai che da bruttissimo Ma è tu pace che mi preoccupa un bambino Lei non è presa su da nani, vero? No, no, altrimenti l'avrei già restituita Vi rinforzerà sicuramente Grazie Tu devi essere Tedla, dico bene? Sì, messie, ma come conoscete il mio nome? Le lettere di mia madre Ti ha citato un paio di volte Ti prego Tedla, valla a svegliare Ho bisogno di carriere con lei Domani devo partire per l'esercito Merda Ehi Sfiggio Lascialo È sicuramente morto Chiamiamo il corone La mia madre Grazie a tutti.